Scegli in Italia per iniziare la sua anteprima europea il celebre tanghero Michel Angel Zotto, che da questa sera a domenica sarà al Teatro delle Palme con lo spettacolo Puro Tango, una storia danzata che attraversa le epoche e le figurazioni del più celebre ballo argentino, partendo da una casa portegna dell'Ottocento per rievocare il Caciafaz, lo scugnizzo di origini francesi tuttora considerato una delle leggende del tango. Le musiche dal vivo saranno eseguite da un quintetto di artisti di Buenos Aires, diretto da Pocho Palmer.